Era dicembre del 1961 quando ad Ugento è stata rinvenuta una rara raffigurazione bronzea di Zeus risalente al 530 a.C., divenendo in breve tempo elemento rappresentativo ed identitario della città salentina, tant'è che è ispirato all'istituzione del prestigioso Premio Internazionale di Archeologia, istituito nel 2005 dall'Associazione Terra Emerse e dal Comune di Ugento. Lo Zeus di Ugento è custodito nel Museo Archeologico di Taranto, dove è stata presentata l'edizione 2024 del Premio, in programma mercoledì 28 agosto in Piazza San Vincenzo alle ore 20 e 30. Presente il Vice-Sindaco Massimo Lecci e l'Assessore alla Cultura Chiara Congedi. Il Premio si articola e si suddivide in una serie di sezioni, quindi il Comitato Scientifico, composto da persone autorevolissime, hanno individuato veramente delle figure che stanno dando un contributo fondamentale per la promozione storico-archeologica anche delle nostre realtà, ma che le proiettono a livello nazionale e internazionale. Questo particolare legame con la città di Taranto? Eh sì, è un legame indissolubile perché comunque Taranto e Ugento storicamente hanno condiviso dei momenti storici molto importanti, noi cerchiamo di portare avanti la memoria. Ogni anno ci prepariamo all'organizzazione di questo evento che ha come sicuramente tema l'archeologia, però è anche un momento di incontro, di promozione monumentale e anche di promozione turistica. A fare gli onori di casa alla direttrice del Martastella Falzone, che del premio Zeus è anche autorevole componente del Comitato Scientifico. Il caso di dire è corsi e ricorsi storici, Taranto e Ugento, dei tratti di storia in comune. Lo Zeus è proprio uno degli elementi, diciamo, identitari della nostra collezione e quindi con grande felicità oggi ospitiamo questo evento che è un evento di promozione che serve a sancire l'importanza di questo territorio e attraverso i premiati, coloro che verranno premiati domani, che sono personalità nell'ambito scientifico veramente di grande spessore, noi andiamo a sottolineare l'importanza della ricerca e l'importanza e la ricchezza delle testimonianze archeologiche di questo territorio che sono conservate nel museo.